Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale per questo nuovissimo video Io vi invito già a mettere il mi piace e a commentare chi volete il prossimo episodio di questa reazione a YouTube Poop Inna Zoom Eleven del Tonno Rio Mare Perché so già che è uno dei video più belli mai realizzati su Inna Zoom Eleven come YouTube Poop Lo so perché lo vidi 5 anni fa quando uscì e adesso voglio farci la reazione dopo 5 anni E so già ragazzi che fa scoprire da ridere quindi iscrivetevi per non perdere i prossimi video Dette mi piace e commentate perché voi non avete capito cioè voi non potete capire ma fra poco sì Perché lo siamo pronti a vedere insieme quindi guardiamo insieme ragazzi questo video e ci sarà da ridere Il Rio Mare Classico Piacere di conoscervi ragazzi Con lui non temeremo più nessuno Ma che state dicendo non abbiamo bisogno di lui La Raymond può già contare sul mio Rio Mare Tutto non rimetterlo secondo me come attaccante basto io E invece secondo me stai dicendo un'enorme stupidaggine Scusate il masturbo Grazie a questo filmato potremmo studiare la Occult Di scoprire quello che è inizionale Dicono che la Occult compie una specie Di sort Buon pomeriggio È arrivato il giorno che tutti noi aspettavamo L'amichevole fra la Raymond e la Raymond La Raymond L'hai visto Un classico il tornare indietro Delle poop Eccola qua ragazzi La Occult I miti col lupone Con talisman Tutti gli altri No vabbè ragazzi Nokia Roba da vecchi proprio Il long era quello Che poi sono solo quelli tra l'altro Nooo Oh mio dio Oh mio dio Rio mare Oh mamma mia Rio mare Evidentemente è il nome del suo colpo special Bravissimo Forza continuiamo così Credo lo chiami Rio mare A quanto pare questa squadra non è forte come vuol far credere È vero Sono tutto fumo e niente fumo Continuiamo a cagare così Va bene Tutto fumo e niente fumo Tutto fumo e niente fumo Tutto fumo Tutto fumo Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia Il tiro ma noia Il tiro ma noia Nooo Il tiro ma noia Ora che non mi darete più noia Il tiro ma noia ragazzi Mi piace solo per questo Mi prego il tiro ma noia Ora ci fai solo Rio mare Rio mare Dal tiro ma noia Il tiro rio mare ragazzi Votate il vostro preferito Commentatelo nei commenti Cioè Io vorrei assolutamente portare il prossimo episodio Quindi ragazzi Voglio un sacco di mi piace Oh no Oh no Nooo Mamma mia No è troppo bella ragazzi È troppo fatto bene poi Vi affagnate tanto Non potete fare niente Contro la mia mossa speciale Blocco invisibile E ci risiamo Adesso rifà il tiro ma noia Eccolo lì Il tiro ma noia No vabbè ragazzi Non ce lo posso fare Il tiro ma noia Cioè Ci rendiamo conto E dobinate Cosa ci può succedere ragazzi Dobinate Siamo così Non ce l'hai due sette a tre Giustamente Te lo mi annoia No vabbè ragazzi Che fischio è L'arbitro fischia L'arbitro L'arbitro fischia l'arbitro Sono troppo buono Oh ragazzi Oh mamma mia Non ce la faccio più È troppo bello No è finito È finito È finito ragazzi È finito Scopriamo nel posto di video Ma io vi metto in descrizione Il video originale naturalmente E vi invito a lasciare Un sacco di supporto Per questo video Così vediamo anche il prossimo episodio Di questa poop Sempre dello stesso creatore Perché ragazzi Mi ha fatto venire da ridere Spero vi abbia divertito anche a voi Quindi un bel mi piace Iscrivetevi e commentate Ci vediamo Con un prossimo video E prossimamente Anche con il prossimo episodio Se vedrò abbastanza supporto Ciao ciao